Il concetto della centesima scimmia è una metafora che spesso viene utilizzata per rappresentare il fenomeno della diffusione delle idee o dei comportamenti attraverso la società. Trae origine da una storia che racconta di un gruppo di macachi che vive su un'isola. Ogni giorno le scimmie vivono le loro vite in modo simile, seguendo le stesse abitudini e comportamenti. Tuttavia un giorno una scimmia curiosa, chiamata la centesima scimmia, decide di sperimentare qualcosa di nuovo. A proposito, ti sei ricordato di iscriverti al canale, di attivare la campanella e dopo aver visto il video ti ricorderai di condividerlo con i tuoi amici? Allora dicevamo, questa centesima scimmia decide di fare qualcosa di nuovo. Magari scopre come rompere una noce in un modo innovativo o inventa, come in questo caso, come dare un gusto diverso alle patate immergendole nella salsedine marina. Ciò che accade dopo è straordinario. Improvvisamente, come per magia, anche le altre scimmie iniziano a fare lo stesso. Si diffonde un'energia contagiosa, un'onda di trasformazione che si propaga attraverso la tribù. Le abitudini consolidate vengono messe in discussione e sostituite da nuove pratiche. La centesima scimmia ha scatenato una rivoluzione, un cambiamento di paradigma che coinvolge tutta la comunità di macachi. Questo racconto simbolico rappresenta il potere dell'innovazione e dell'ispirazione collettiva. La centesima scimmia rappresenta l'individuo che si avventura oltre i confini della normalità, che osa sfidare le convenzioni e mettersi in gioco. Il suo coraggio e la sua audacia sono un catalizzatore per il cambiamento. Ma cosa succede esattamente per far sì che le altre scimmie adottino nuovi comportamenti? Grandissima novità. È nata l'Accademia di Formazione di Alberto Lori. Qui su YouTube il meglio di tutti i nostri argomenti. Videocorsi, interviste online e conferenze registrate in tutta Italia. Tutto qui, a portata di click. Clicca senza impegno sul pulsante Abbonati, per scoprire cosa troverai. Poi sceglierai se iniziare a seguirci e se in futuro non troverai più ciò che ti interessa, potrai interrompere in ogni momento. Ti aspetto, Alberto Lori. È la connessione energetica e la trasmissione di informazioni che avvengono tra di loro. Quando un numero critico di individui raggiunge una nuova comprensione o scopre una nuova possibilità, questa conoscenza si diffonde attraverso una sorta di campo di consapevolezza collettiva. Le scimmie si influenzano reciprocamente, aprendo la strada a un nuovo modo di fare le cose. La metafora affascinante della centesima scimmia è stata diffusa per la prima volta attraverso il libro The Hundredth Monkey, scritto da Ken Keyes Jr., un noto autore e attivista. Pubblicato nel 1982, il libro ha catturato l'immaginazione di molte persone, aprendo la strada a una nuova comprensione del potenziale di trasformazione collettiva. Tuttavia è importante sottolineare che la metafora stessa si basa su una storia reale che risale agli anni 50 e 60, quando i primatologi Masao Kawai e Tetsuro Matsuzawa condussero studi sui macachi nell'isola di Koshima in Giappone. Durante le loro osservazioni scoprirono che una scimmia iniziò a lavare le patate per rimuovere la sabbia prima di mangiarle e gradualmente questa pratica si diffuse tra gli altri membri della tribù. La scoperta di questo nuovo comportamento innovativo ha sollevato interessanti riflessioni sul potenziale di cambiamento collettivo. Successivamente Ken Keyes Jr. ha preso questa storia e l'ha ampliata nella sua opera, attribuendo alla centesima scimmia un significato simbolico più ampio. Egli suggerì che quando un numero critico di individui raggiunge una nuova comprensione o adotta nuovi comportamenti, questa conoscenza può diffondersi rapidamente tra gli altri membri della società. Questo concetto simbolico sottolinea l'importanza del contributo individuale nel plasmare il cambiamento sociale e spirituale. Da allora la metafora della centesima scimmia ha continuato a ispirare molti, diventando un elemento comune nelle discussioni sul potere dell'individuo di influenzare il collettivo. È diventata una chiave per aprire la porta alla consapevolezza che ognuno di noi ha la capacità di fare una differenza significativa nel mondo, che possiamo essere dei catalizzatori per il cambiamento e l'evoluzione. In conclusione, la metafora della centesima scimmia è un prezioso strumento per riflettere sul potere dell'individuo e del collettivo. Ci ricorda che anche un singolo atto di coraggio, intuizione o innovazione può scatenare una catena di eventi che porta a una trasformazione profonda. Ognuno di noi ha il potenziale di essere una centesima scimmia, un agente di cambiamento che spalanca nuove porte di possibilità. Questa metafora è stata spesso utilizzata per enfatizzare l'importanza dell'individuo e il suo potenziale di influenzare il cambiamento sociale. Sottolinea che anche il contributo di una singola persona può essere significativo e che ogni individuo ha la possibilità di essere un catalizzatore per il cambiamento. Tuttavia è importante notare che la metafora della centesima scimmia è solo un modo figurativo per esprimere un concetto e non ha basi scientifiche o empiriche. Non esiste un numero specifico o un meccanismo preciso che determini la diffusione di un'idea o un comportamento tra le persone. La sua importanza risiede nella sua capacità di illustrare l'idea che il cambiamento sociale può iniziare da piccoli gruppi di individui che adottano nuove prospettive o pratiche. In fondo basta poco per gettare le basi per un cambiamento della società di oggi che ha tanto bisogno di rinnovarsi e di interrompere la deriva attuale.